ciao ragazzi, eccoci allora questo è il commento di Napoli-Verona diciamo che è stata una partita dove il Napoli a mio avviso ha giocato molto bene con il Verona ovviamente è una partita in cui si può dire poco delle qualità del Napoli anche se le qualità del Napoli sono sotto gli occhi di tutti ha fatto un grande campionato diciamo che il Napoli ha provato in tutti i modi ad andare in vantaggio Collini è stato strepitoso su Gabbiadini, veramente su un cross di Cagliano una parata pazzesca di Collini poi su un tiro di Cagliano Collini secondo me respinge troppo centrale poi arriva Gabbiadini che gli fa il gode l'1-0 poi ci sarà calcio di rigore per il Napoli per il fallo su insegne che andava in porta il fallo secondo me c'è, l'espulsione c'è poi va in segne, Collini intuisce e gode del 2-0 poi nel secondo tempo diciamo che è stata una partita secondo me più semplice perché dalla destra mi sembra che chi era alla destra mi sembra, non mi ricordo chi fosse Amsic forse, sì comunque dalla destra grande cross dalla destra e fa tutto il giocatore del Napoli fa tutta l'area entra dentro passaggio dentro perché io ho una portavota che fa il gode 3-0 poi Verona ci ha provato in qualche occasione ma niente di particolarmente importante adesso vedremo se il Napoli riuscì a dimostrare la sua forza sabato con l'Inter perché se il Napoli dovesse vincere tornerebbe ovviamente a pressare la Juve se il Napoli dovesse perdere penso che se la Juve vince il campionato è finito bene ragazzi questo è tutto e ci vediamo con il prossimo commento ciao ragazzi forza Juve